Interrogazione, Gilippo Graziani, venga depanato! Sono confuso! Allora, 9 all'Auditorio in Parco della Musica di Roma, Teatro Studio. Poi si passa a maggio, dove avremo l'8 maggio il Tender Club di Firenze. Lei si dimentica una data incontrante, Graziani, il 7? Il 7 maggio, vero, il 7 maggio hai ragione, il 7 maggio è il Geoxino di Padova. Senta, un'ultima domanda, Graziani. Ci date sul sito, www.fibrocazio.it è un sito che non scrivo io, quindi è giusto, perché non mi ricordo nulla, quindi sul sito tutte le date, toccheremo un sacco di belle città. Graziani, come si prepara a questo tour? Ci fa vedere la sua preparazione? Va bene, va bene, faccio vedere, dove appoggio questa? Utenti, saltate la corda! Sto giorno mi pentirò di sta colla! Va bene, dai! Pressione, dai! Wow! Quanto devo fare? N! 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 Il 7 maggio! GioXino Padova! Poi, colera l'altra, 8 maggio, te andavo a Firenze! Quanto va bene? Si si! Sei giusto, poi c'è l'Alcatrattra o Milano. 15 15 ma è aprile maggio a 14 milano e il 16 e 16 a torino grazie a tutti